Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso le sue figure più importanti, cioè appunto gli imperatori. La puntata di oggi è una di quelle che a prepararle fa un po' tremare i polsi, perché l'imperatore che racconteremo oggi, cioè Erachio I, è uno di quegli imperatori che hanno avuto una vita lunga, densa di avvenimenti. È un imperatore che, come vedremo, inizierà il suo governo in uno dei momenti più mui della storia romana. Se avete seguito la scorsa puntata, penso abbiate capito di cosa sto parlando. Che riuscì a portare con tanta, tanta, tanta fatica di nuovo l'impero alla sua grandezza, ad affrontare, a sconfiggere il suo nemico più forte e che poi, negli ultimi anni di regno, vide nuovamente crollare tutto quel castello. Sarà una specie di ottovolante e spesso la sua vita, la vita di Erachio I, è stata raccontata proprio così, come un periodo scuro iniziale, un periodo splendente in mezzo e poi di nuovo un periodo scuro finale, quasi come se gli avvenimenti che andremo a raccontare dipendessero esclusivamente dalla sua mano. E invece forse qualcosa stava cambiando. Erachio, come vedremo, sarà un imperatore di cambiamento, un imperatore con cui l'impero inizierà ad affrontare quello che sarà il suo grande nemico durante il Medioevo, con cui l'impero compierà definitivamente quella transizione che abbiamo iniziato a raccontare da parecchio tempo, dall'essere un impero latino all'essere un impero greco. Tutto questo nell'arco di una vita, nell'arco di un impero che per quanto lungo, e vedrete che la puntata di oggi di Cosa da raccontare ce ne saranno, sarà l'impero di un solo uomo. Ed ora la domanda che vi faccio, e cui proveremo di rispondere durante tutta questa puntata, tutto quello che succederà sarà solo per merito o per colpa di Erachio, o era la storia che stava cambiando? A voi ovviamente la risposta. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale se non lo siete già, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Se volete recuperare le altre puntate di Imperatore su altre puntate dello stesso periodo storico, in descrizione trovate ovviamente la playlist. Adesso sigla, e poi iniziamo a raccontare. Il nostro erachio nacque nel 575 d.C. in Cappadocia. La sua era una famiglia nobile che parlava greco, questa è una delle poche cose che sappiamo per certo. Sono poi state avanzate una marea di ipotesi sull'origine di questa famiglia. Ovviamente, a differenza di quella di Maurizio, che proveniva dalla stessa zona, ma aveva origini latine, questa doveva essere o autoctona o comunque venire dall'Oriente. Questo ci si aspetta. Qualcuno lega la famiglia a quella degli Arsacidi, che era una famiglia nobiliare molto importante, anzi era una famiglia regale, che aveva per tanti anni regnato sull'Armenia, che aveva in effetti varie branche collaterali che si erano sparse in tutta l'Anatolia. Ma non vi è nessun legame noto e nessuna informazione ci indirizza realmente in quella direzione. Ad ogni modo, di questa famiglia abbiamo iniziato a sentir parlare già a partire dalla puntata dell'Imperatore Maurizio, quindi due puntate fa, e ne abbiamo iniziato a sentir parlare tramite il padre di Eraclio, che si chiamava anche lui Eraclio. Come vedremo nella famiglia tutti si chiameranno Eraclio, anche se per un motivo o per l'altro saranno poi conosciuti con altri nomi. Padre di Eraclio, che veniva normalmente chiamato Eraclio il Vecchio, il quale aveva fatto carriera all'interno dell'esercito, o quantomeno era stato abbastanzabile da mettersi in mostra all'interno dell'esercito di Maurizio. Lo abbiamo iniziato a conoscere come generale in seconda, come comandante agli ordini di Filippico, e proprio insieme a Filippico aveva partecipato ad alcune spedizioni in oriente contro i Sasanidi. Quando poi Filippico si era ammalato, lo aveva sostituito, e nelle ultime campagne di Maurizio contro il nemico orientale lo abbiamo visto comandare gli eserciti, riuscire a sconfiggere più volte l'avversario, spingersi addirittura verso l'interno, eppur rimanendo ovviamente sempre un passo indietro rispetto all'Imperatore, e poi allo stesso Filippico una volta che questo era tornato al comando, dimostrando sempre tutte le sue capacità. Forse per questo Maurizio ad un certo punto gli diede un incarico decisamente importante, cioè quello di Esarca d'Africa, quindi potremmo dire governatore militare della zona dell'Africa. Cosa fossero gli esarcati lo abbiamo spiegato due puntate fa. In realtà su quest'ultimo aspetto ci sono due versioni diverse, perché qualcuno ritiene che Amandallo in Africa sia stato Maurizio, altri invece ritengono che Amandallo in Africa sia stato il suo successore, colui che aveva preso il potere contro Maurizio con la forza, cioè Foca. Nel caso fosse stato Foca a mandarlo, questo difficilmente può indicare un'accettazione da parte di Eracolo della transizione del potere, o addirittura un suo appoggio. Come abbiamo raccontato, Foca aveva preso il potere grazie alle truppe presenti nei Balcani, con cui aveva marciato su Costantinopoli, e in parte alla popolazione di Costantinopoli, non grazie alle truppe in Oriente. È più probabile che la scelta di Foca, nel caso l'abbia fatto lui, fosse dovuta più che altro al voler allontanare un possibile avversario, o qualcuno che in qualche modo potesse puntare al trono imperiale. Come ho visto nella scorsa puntata, però in realtà le cose poi non erano andate così. L'impero di Foca si era dimostrato un disastro, l'impero era stato invaso da tutte le direzioni, i Sasanidi avevano occupato l'Oriente, e soprattutto Foca era stato molto poco apprezzato da buona parte della popolazione, anche quelli che inizialmente lo avevano appoggiato. Nel 608 d.C. Prisco, generale, nonché per altro genero di Foca, quindi persona che ci si poteva aspettare potesse essere di vicino, decise che era il momento di cambiare imperatore. Ora, non è chiaro come siano andate le cose. Secondo alcuni, Prisco avrebbe cercato l'appoggio di Eracchio e il Vecchio chiedendogli di aiutarlo a diventare imperatore, ovviamente in cambio poi di chissà cosa successivamente. Secondo altre fonti, invece Prisco fin dall'inizio avrebbe deciso di non puntare lui direttamente alla porpora imperiale, forse preferendo rimanere un passo indietro rispetto all'impero, e avrebbe proposto ad Eracchio invece di diventare imperatore con il suo appoggio. Eracchio il Vecchio però, appunto, in quel momento era già invecchiato, morirà in effetti in quegli anni, e capì che non avrebbe potuto condurre direttamente la campagna contro l'imperatore. Per questo affidò le sue truppe a suo figlio, appunto Eracchio, che era cresciuto sotto di lui dal punto di vista militare durante il suo periodo in Africa, e a suo nipote, figlio di suo fratello, cioè Niceta. Ora, la tradizione vuole che Eracchio, il futuro imperatore, e Niceta avessero iniziato una specie di competizione. Uno avrebbe attaccato verso nord, uno avrebbe attaccato verso sud, uno, Eracchio, avrebbe usato la flotta, l'altro, Niceta, avrebbe usato l'esercito, e insieme avrebbero sconfitto l'imperatore. Chi dei due fosse riuscito a catturare Fuoca e arrivare per primo a Costantinopoli, sarebbe poi diventato il nuovo imperatore. Ora, come vi dicevo, tutto questo probabilmente è una leggenda. Perché è una leggenda? Perché se così non fosse, diciamo che le basi di partenza erano strane, perché Niceta si era diretto verso l'Egitto, che in effetti riuscirà a conquistare strappandolo alle forze di Fuoca, mentre nel 609 d.C. Eracchio, con la sua flotta, era sbarcato in Grecia. Ora, capite che anche solo geograficamente tutto questo non depone molto a favore di una lotta alla pari, quindi è possibile che Eracchio, in realtà, fin dall'inizio fosse l'imperatore designato e che semplicemente Niceta avrebbe dovuto affiancarlo. Ad ogni modo, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, Eracchio riuscì facilmente nel suo intento. Sbarcò in Grecia, la trasformò in una sua base e dopodiché si mosse verso Costantinopoli. A Costantinopoli, però, la popolazione era in subbuglio. I verdi e gli azzurri, che inizialmente avevano appoggiato la salita al potere di Fuoca, si erano nuovamente spaccati. Gli azzurri continuavano a difendere l'imperatore, i verdi, invece, ormai gli si opponevano in maniera ferocissima. E alla lunga queste lotte civili avevano indebolito la posizione di Fuoca, che alla fine era stato sconfitto, era stato catturato dai verdi, portato di fronte ad Eracchio, che lo aveva disposto di fronte a sé sulla sua nave. Ora, le fonti ci raccontano un finale abbastanza particolare, o meglio, un inizio, visto che stiamo parlando della storia di Eracchio e non di quella di Fuoca. Come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, Eracchio venne condotto appunto vivo di fronte a Fuoca, il quale gli chiese se ritenesse di aver governato in maniera corretta, al che Fuoca gli rispose che in realtà si chiedeva se lui avrebbe potuto governare in maniera corretta. Eracchio, di fronte a questo insulto, avrebbe preso un'ascia e gli avrebbe tagliato la testa, per poi gettare il corpo in mare. Non sappiamo se sia andata così, è probabile che comunque Fuoca avrebbe fatto una brutta fine, fatto sta che con questo avvenimento Eracchio poté entrare a Costantinopoli e dichiararsi imperatore. Anche se, ovviamente, la cosa poteva essere un po' di battuta. Perché? Perché se Fuoca era stato ovviamente un usurpatore, Eracchio, che non aveva nessun legame con famiglie imperiali precedenti, allo stesso modo poteva essere preso come tale. Proprio per questo, quando nell'ottobre del 610 Eracchio venne incoronato imperatore, a tutti gli effetti iniziò a cercare dei nuovi legami che potessero giustificare questa sua presa di potere. Innanzitutto, a differenza di quanto fatto da Fuoca, non si legò alla popolazione, tanto meno alle fazioni. È vero, quando era arrivato a Costantinopoli, aveva premiato i Verdi e punito gli Azzurri, molti dei quali erano stati massacrati, a cui era stato bruciato il grande vessillo, simbolo della fazione, quasi a dimostrare che avessero completamente perso il potere. Ma in realtà, già dei primi mesi, questo legame con i Verdi andò affievolendosi e soprattutto l'imperatore fece di tutto per dimostrare che non era strettamente legato a quella fazione. Ad esempio, al momento dell'incoronazione, a differenza di tanti imperatori, non si regò all'interno dell'ippodromo, che era il luogo dove di solito gli imperatori facevano una parte della loro incoronazione. Questo per mostrare distacco rispetto alle fazioni e ovviamente togliere loro il potere. Cercò invece dall'altra parte di legarsi molto all'aspetto religioso, al patriarca di Costantinopoli, il quale in effetti fu colui che guidò l'incoronazione, che avvenne all'interno di una chiesa, e fu anche colui a cui in qualche modo Eraclio cercò di appoggiarsi nella prima parte del suo regno. Colui che dal punto di vista propagandistico, perché poi sempre di propaganda si parla, in qualche modo permetteva di legare più strettamente l'imperatore con la trascendenza. Ci sono giunte delle opere, palesemente propagandistiche, ripeto, in cui si definisce l'imperatore Eraclio come una catena d'oro tra il cielo e la terra, come se l'imperatore che avesse un ruolo di legame proprio tra Dio e gli uomini. Ora, questa idea, questa figura religiosa dell'imperatore, che se vogliamo si distacca da una figura decisamente più amministrativa, che era stata per tanto tempo, in realtà è poi la prosecuzione di un processo che abbiamo visto iniziare già in tanti imperatori, che avevano iniziato ad avere questo legame molto forte con la divinità, ma è un'idea che si distacca da quelle che erano le idee romane degli ultimi secoli. Forse rimanda più a un passato più remoto, oppure rimanda a delle tradizioni che non sono tanto romane, quanto più che altro del mondo ellenistico, o comunque del mondo orientale. E come vedremo, è possibile che questa seconda versione fosse in effetti legata ad una trasformazione anche culturale, a cui l'impero stava andando avanti. Ma ne parliamo più avanti. Ad ogni modo, al momento dell'incoronazione, Eraclio non venne solo incoronato imperatore, ma venne anche sposato. Venne sposato a Fabia Eudocia, che era una ragazza, figlia di un ricco possidente terriero africano, a cui era già stato promesso anni prima, ma che era stata per anni imprigionata da foca, perché al momento dello scoppio della ribellione di Eraclio, si trovava a Costantinopoli, era stata presa e imprigionata, ed era stata liberata proprio nel 610 da Eraclio, da Eraclio stesso una volta arrivato in città. Il matrimonio tra i due fu abbastanza fortunato, almeno questo ci dicono le fonti. Ebbero due figli, Eudocia ed Eraclio Costantino, ma fu anche un matrimonio abbastanza breve, perché nel 612, o secondo altre fonti, nel 613, la donna morì a causa di un attacco epilettico. Ora, a posteriori, molti autori hanno descritto Fabia Eudocia come una donna incredibile, amatissima dal popolo. Ad esempio si racconta che al momento in cui morì, il suo corpo venne portato su una specie di catafalco attraverso le vie di Costantinopoli, con una folla adorante da una parte e dall'altra, quando ad un certo punto una serva, che lavorava in uno dei palazzi delle case intorno a cui stava passando il catafalco, per errore sputò fuori dalla finestra. Lo sputo cadde sul corpo dell'imperatrice e la folla inferocita sfondò le porte del palazzo, prese la serva e la linciò. Ora, è possibile che questo forte legame tra la popolazione e Fabia Eudocia siano effettivamente esistiti, magari aveva aiutato in qualche modo la popolazione, non è chiaro, ma è anche possibile che si tratti in realtà di scritti fatti a posteriori, giustificati dal fatto che Eraclio, subito dopo la morte di Fabia Eudocia, si era risposato e lo aveva fatto con una donna che invece aveva dato un grandissimo scandalo in tutto l'impero. Il secondo matrimonio di Eraclio sarà con Martina, che di per sé poteva anche essere un'imperatrice come tante, come vedremo forse un po' affamata di potere, ma comunque un'imperatrice come tante, ma che aveva un grosso problema, era fortemente imparentata con Eraclio, perché era sua nipote, era la figlia della sorella. Ora, già all'epoca, questo legame era ovviamente vietato, era mal considerato dalla Chiesa, che ovviamente non amava i matrimoni tra consanguigni, ma teoricamente era anche vietato dalla legge, cosa che Eraclio assolutamente non si pose minimamente come problema alla fine, facendo celebrare il matrimonio. Questo matrimonio, che ripeto, era stato ampiamente avversato anche dal patriarca, che aveva cercato di far cambiare idea ad Eraclio, chissà forse gli avevano detto non sposatevi, fate cosa volete, ma non sposatevi, in realtà sarà un matrimonio lunghissimo, Martina rimarrà a fianco ad Eraclio per tutta la sua vita, gli darà addirittura nove figli, lo seguirà persino durante le campagne militari e da questo punto di vista non le si poteva dire nulla. Il problema è che molti dei figli della coppia ebbero dei problemi, alcuni morirono giovani, altri nacquero con delle malformazioni, uno nacque sordo e questo venne interpretato dalla popolazione come un segno del fatto che Dio fosse adirato con Eraclio per questa scelta. Ricordatevelo perché molto spesso tutto quello di negativo che succederà all'interno dell'impero di Eraclio sarà proprio interpretato alla luce di questo matrimonio, dicendo che tutto questo era semplicemente la punizione per questo matrimonio incestuoso. C'è da dire che al momento in cui prese il trono in realtà i problemi erano decisamente diversi. L'impero che Prisco gli aveva lasciato come abbiamo anticipato all'inizio della puntata era un impero in condizioni terrificanti soprattutto dal punto di vista militare. I Balcani erano invasi dagli Avari e dagli Slavi che Maurizio era riuscito a ricacciare indietro e che invece erano tornati ad espandersi durante il Regno di Focca ma soprattutto in Oriente i Sasanidi facevano quello che volevano e questo ovviamente rappresentava un grosso problema. Per cercare di reggere tutta questa situazione Eraclio doveva poi bilanciare anche i poteri a Costantinopoli perché non immaginate che tutti odiassero Focca e che quindi la presa di potere di Eraclio fosse stata così pacifica. Alcuni comandanti militari una parte del popolo continuavano ad appoggiare il vecchio imperatore e addirittura nel 611 ci fu un tentativo di colpo di stato da parte del fratello secondo alcune fonti cugino secondo altre di Focca il quale ancora una parte dell'esercito cercò di marciare verso Costantinopoli venendo però poi ucciso dai suoi stessi uomini. Molti generali però non erano così convinti di questa transizione e almeno inizialmente Eraclio fu abbastanza intelligente da cercare di mantenere alcuni degli uomini di Focca nelle loro posizioni e questo continuò per almeno due o tre anni fino a 612-613 quando poi Eraclio anche alla luce di sconfitte avvenute contro i Sasanidi ebbe la forza di prendere questi uomini che appunto erano stati sconfitti tra cui ad esempio Prisco tra poco ne parleremo e privarli del potere. Prisco che dopo tutto rimaneva un personaggio abbastanza ambiguo perché aveva sì supportato la sua rivolta ma era stato un possibile candidato alla porpora imperiale aveva comunque dei legami di sangue con Focca Prisco venne mandato in un monastero per evitare che potesse in futuro farsi venire chissà quale strana idea in mente. Arriviamo però a quello che sarà uno degli argomenti principali di questa puntata ovviamente non ve lo nascondo cioè la guerra con i Sasanidi. La guerra con i Sasanidi come abbiamo raccontato nella scorsa puntata era riscoppiata nel 602 dopo Cristo. L'imperatore Maurizio facciamo un salto indietro di due puntate aveva condotto una lunga e sanguinosa campagna contro i Sasanidi che alla fine era riuscito a permettergli di ottenere una pace vantaggiosa pace ottenuta grazie anche al legame con il nuovo imperatore il nuovo re dei re Cosroe II il quale doveva peraltro la sua vita e il suo potere a Maurizio e che per questo aveva accettato di siglare una pace. Ora se questa pace fosse stabile oppure no come vi dicevo nella scorsa puntata non è esattamente chiaro fatto sta che quando Maurizio venne ucciso da Focca e Focca prese il potere Cosroe aveva approfittato appunto nel 602 dopo Cristo della situazione e aveva deciso di dichiarare guerra all'impero le sue armate erano avanzate verso ovest nella loro avanzata erano venute a contatto con quelle di un generale ribelle che in passato aveva combattuto a lungo con i Sasanidi cioè Narsete il quale si era ribellato a Focca ovviamente appoggiando Maurizio il quale nel momento in cui aveva legato le sue armate a quelle di Cosroe gli aveva anche consegnato un giovane ragazzo dicendo che questi fosse niente poco di meno che Teodosio l'unico figlio maschio sopravvissuto di Maurizio e quindi dal suo punto di vista colui che poteva avere diritto di sedersi sul trono di Costantinopoli che questo fosse vero oppure no è molto probabile che quello non fosse Teodosio ma un ragazzo che gli assomigliava utilizzato semplicemente come una marionetta Cosroe da quel momento annunciò che la sua volontà sarebbe stata quella di porre Teodosio sul trono proprio in ricordo di Maurizio ovviamente tutto questo era probabilmente falso Cosroe aveva il progetto di approfittare di questo momento di sbandamento dell'impero per espandere il più possibile i territori dei Sasanidi Sasanidi che non dimentichiamocelo si consideravano un po' discendenti della grande Persia imperiale e che consideravano loro diritto quello di espandersi fino ai territori che un tempo erano stati proprio dell'impero persiano ad ogni modo la prima fase dell'avanzata fu quanto meno facile i Sasanidi come abbiamo raccontato sotto il regno di foca approfittando di qualche vittoria militare ma soprattutto approfittando dell'instabilità politica a Roma a Costantinopoli chiedo scusa erano riusciti ad avanzare in profondità e l'unica cosa che li aveva fermati per così dire era stata la presenza di tante fortezze lungo il territorio che li avevano costretti a lunghi assedi avevano catturato Dara la fortezza ovviamente fondamentale per reggere le sorti dell'impero nella zona della Mesopotamia avevano pian pianino conquistato tutte le città ad est delle Eufrate quelle dove normalmente abbiamo sentito in tante puntate avvenivano gli scontri e poi addirittura avevano superato le Eufrate conquistando nel 608 d.C. Zenobia prima città sulla sponda ovest oltre a questo avevano ovviamente condotto grandi campagne di razzia come l'abbiamo visto si erano spinti nella zona dell'Armenia insomma stavano minacciando l'impero quando Araclio era salito al potere aveva inizialmente cercato di trattare con Cosroe II proponendogli un accordo una nuova pace ma Cosroe se ne era guardato bene sapeva benissimo di avere contato dalla parte del manico e aveva dichiarato di considerare Eraclio un usurpatore tanto quanto era un usurpatore foca Eraclio quindi aveva iniziato a mandargli conto degli eserciti un primo esercito comandato da Prisco che però era stato sconfitto nel 612 e Prisco era stato mandato in monastero un secondo esercito comandato da Filippico che era stato comandante sotto Maurizio era stato anche il comandante di suo padre Eraclio il Vecchio anche lui però non riuscì ad ottenere nulla e i Sasanidi nei primi anni di impero di Eraclio continuarono ad avanzare addirittura giungendo ad occupare Antiochia città un tempo importantissima era stata anche la città più importante dell'Oriente Romano ma che ormai aveva caduto ovviamente in forte decadenza lo abbiamo raccontato a causa di terremoti razzie guerra insomma tutto quello che poteva devastare una città a questo punto siamo nel 613 614 d.C. lo stesso Eraclio si era messo alla guida delle sue truppe era ovviamente anche un modo per giustificare il suo potere non tanti imperatori lo avevano fatto anzi tanti imperatori come Maurizio una volta diventati tale si erano tenuti lontani dall'esercito Eraclio però voleva basare sull'esercito il suo potere in effetti già all'epoca la propaganda batteva molto sulla sua forza fisica sull'essere molto alto anche affascinante si diceva fosse biondo bello di tratti e sulle sue grandi capacità di comando queste grandi capacità di comando però inizialmente non lo portarono da nessuna parte il suo primo scontro con i Sasanidi fu in effetti un mezzo disastro ad Antiochia infatti le sue forze che provenivano da Costantinopoli e quelle di suo cugino Niceta che era diventato nel mentre governatore dell'Egitto e che provenivano da sud si riunirono per affrontare i Sasanidi ma lo scontro si tramutò in una rovinosa sconfitta gli eserciti romani tornarono a dividersi lui tornò verso Costantinopoli Niceta verso l'Egitto e i Sasanidi rimasero padroni di questa zona occupando poi la parte meridionale dell'attuale Turchia e a tutti gli effetti spaccando l'impero in due parti negli anni successivi i Sasanidi dilagarono come fossero una tempesta una tempesta contro cui i romani non potevano fare nulla nel 613 cadde Damasco nel 615 cadde la Palestina e venne occupata addirittura a Gerusalemme dove i Sasanidi faranno un massacro terrificante pare uccidendo quasi 50.000 persone e dove non solo devasteranno i luoghi di culto cristiani ma dove porteranno via alcune delle reliquie più venerate più sante della cristianità in quel momento cioè la vera croce un reliquiario che conteneva dei pezzi di legno considerati parte della croce di Cristo la lancia di Longino una delle sue tante versioni e la cosiddetta sacra spugna che era quella spugna che secondo i Vangeli avrebbero usato i centurioni regionali romani per bagnare con aceto probabilmente in realtà era posca le labbra di Gesù poco prima che lui morisse ad ogni modo questo evento ovviamente gettò nel panico l'impero anche perché subito dopo i Sasanidi iniziarono a spingere verso l'Egitto e se Gerusalemme rappresentava un po' il cuore religioso dell'impero l'Egitto ne rappresentava invece uno dei cuori economici Niceta cercò di opporsi all'avanzata dei Sasanidi ma non vi è riuscì venne sconfitto l'Egitto venne occupato e la stessa Alessandria cadde nelle mani del nemico interroppendo in questo modo siamo nel 606 e 617 dopo Cristo qualunque rifornimento di grano verso Costantinopoli cosa che rappresentava un ulteriore problema oltre che dal punto di vista economico anche dal punto di vista sociale perché l'imperatore senza il grano dell'Egitto non aveva nulla da distribuire alla popolazione e il rischio era che la popolazione si ribellasse in realtà i Sasanidi avevano continuato ad avanzare anche verso nord avevano occupato la parte orientale dell'Anatoglia avevano occupato l'Armenia e poi si erano spinti addirittura fino a Calcedonia quindi ormai siamo vicinissimi a Costantinopoli si dice che gli abitanti di Costantinopoli vedessero i fuochi degli accampamenti Sasanidi dall'altra parte avevano occupato Rodi e l'avevano trasformato in una base iniziando a preparare una flotta forse prima per attaccare Costantinopoli e alla fine si erano ritirati un po' in Anatoglia ma avevano mantenuto una linea di conquiste fino alla zona di Ancira quindi per intenderci fino ad Ancara l'impero praticamente era ridotto ai minimi termini dato che però come si dice piove sempre sul bagnato in questi stessi anni a Costantinopoli c'era una pestilenza e quindi non ci facciamo mancare nulla e gli avari nei Balcani avevano rotto qualunque possibilità di accordo fatta all'inizio del suo impero con Eraclio ed erano tornati a razziare spingendosi verso Costantinopoli Eraclio aveva più volte cercato di accordarsi con loro di pagare un tributo ma gli avari che avevano capito bene qualequanto fosse disperata la situazione dell'impero avevano preteso sempre di più si erano probabilmente anche alleati con i Sasanidi già in questa fase e addirittura nel 619 avevano provato a catturare lo stesso Eraclio si erano spinti fino a Costantinopoli il Cannes si era presentato proponendo un nuovo accordo ma quando Eraclio era andato da loro avevano cercato di prenderlo Eraclio era stato costretto a fuggire ma non erano stati così fortunati gli abitanti del circondario di Costantinopoli molti dei quali erano stati catturati e portati via come schiavi insomma nel 620 d.C. la situazione era completamente disastrosa e a questo punto Eraclio fu costretto ad accettare un accordo con Cosroe Cosroe probabilmente avrebbe voluto continuare la sua strada fino a Costantinopoli ma quando Eraclio gli venne a proporre una tregua previo pagamento di un tributo e un altro tributo da pagare agli avari ovviamente Cosroe capì che avrebbe potuto sfruttare la situazione ormai era il padrone più che lui direttamente i suoi generali erano padroni di quasi tutto l'Oriente Romano bisognava avere un po' di tempo per stabilizzarlo preparare una flotta e poi quindi puntare nuovamente a Costantinopoli perché non accettare e in effetti Cosroe lo fece il 620 è probabilmente il momento più basso dell'impero di Eraclio e per molto tempo sarà uno dei momenti più bassi dell'impero romano ridotto veramente ai minimi termini l'Africa qualcosina in Italia la Grecia un pezzo di Anatolia la Tracia veramente non era rimasto praticamente nulla all'impero si dice che Eraclio ad un certo punto avesse anche pensato di abbandonare Costantinopoli che avesse pensato di ritirarsi a Cartagine e che fosse stato dissuaso dal patriarca il quale gli aveva detto che Costantinopoli non sarebbe caduta che le mure erano alte possenti e che avrebbero potuto difenderla in realtà in questo momento più buio Eraclio trovò l'appoggio bisogna dire di buona parte della popolazione di Costantinopoli popolazione che accettò tutta una serie di riforme che dal punto di vista economico rischiavano di metterla in ginocchio Eraclio fece una riforma monetaria andando a ridurre tantissimo il peso delle monete che quindi teoricamente mantenevano il loro valore ma poi avevano poco valore dal punto di vista del metallo all'interno delle monete stesse e questo ovviamente avrebbe creato inflazione ma sul momento permetteva all'imperatore di avere più denaro da poter spendere moltissimi cittadini di Costantinopoli si arruolarono nell'esercito esercito che tornò ad essere addestrato proprio partendo dai cittadini stessi almeno in parte e addirittura molti religiosi donarono spontaneamente i loro arredi sacri affinché l'impero potesse avere nuovamente del denaro e con tutto questo denaro l'imperatore poté non solo pagare il tributo che gli veniva richiesto ma poté anche pian pianino rimettere in piedi la macchina imperiale in tutto questo iniziò a diffondersi una forte propaganda religiosa sappiamo attraverso le fonti che l'imperatore di concerto con il patriarca iniziò a dipingere la lotta che l'impero stava facendo per la sua sopravvivenza non come una mera lotta politica ma come una vera e propria lotta religiosa una lotta in cui l'impero cristiano si schierava contro i nemici della fede in oriente che avevano razziato e distrutto Gerusalemme e contro i pagani avari in occidente una lotta che questo diceva Eraclio gli avrebbe solo potuti vedere vincitori grazie all'aiuto di Dio nel 622 due anni dopo la firma della tregua Eraclio era pronto spostò le sue truppe in Anatolia passò l'estate alla fine primavera estate ad addestrarle e poi all'inizio dell'autunno si mosse verso oriente quando Cosroi lo venne a sapere diede ordine ai suoi generali di intercettarlo e in effetti un esercito che si trovava in Cappadocia cercò di bloccare l'avanzata di Eraclio lo scontro avvenne nei dintorni di Isso luogo che penso molti di voi ricordino per aver visto una delle battaglie più famose di Alessandro Magno fu uno scontro che come molte delle battaglie che ci vengono raccontate dagli storici dell'epoca legate all'imperatore Eraclio fu frutto di una serie di inganni e di tradimenti ora io vi racconterò quello che ci raccontano le fonti sulle varie battaglie sappiate che qualcuno ha avanzato dei dubbi ha detto che è possibile che su queste battaglie i resoconti siano stati un po' modificati ma io vi racconterò quello che in effetti gli storici dell'epoca raccontavano questa prima battaglia la battaglia di Isso nel 622 623 dopo Cristo fu una battaglia che vide l'esercito dei Sasanidi diviso in tre parti l'idea del generale Sasanide che aveva più o meno le stesse truppe dei Romani ma voleva ammientare l'esercito di Eraclio era quello di attirare Eraclio in una trappola utilizzando una parte delle sue truppe come esca e poi piombare addosso ad Eraclio da più direzioni in questo modo per ammientarlo Eraclio però così ci dicono le fonti che aveva saputo di questo piano dei Sasanidi aveva preparato una contromossa aveva mandato avanti una piccola parte del suo esercito che aveva finto di cadere nella trappola per poi scappare precipitosamente e quando l'esercito Sasanide aveva iniziato ad inseguirlo era stato Eraclio a farli cadere in trappola li aveva battuti aveva ammazzato molti Sasanidi e aveva quindi ottenuto una vittoria quanto era grande l'esercito di Eraclio in questo momento? Beh a sentire le fonti dell'epoca era gigantesco 70 80 100 mila uomini in realtà oggi si ricostruisce che al massimo in questa fase avesse 15 20 mila uomini e che nelle campagne successive fosse arrivato a toccare i 25 mila però è oggettivamente difficile dare dei numeri esatti e ripeto lasciano ancora un po' il tempo che trovano la campagna continuerà fino al 624 permetterà ad Eraclio di liberare tutta la parte settentrionale dell'Anatolia ristabilire i collegamenti con la zona del Caucaso ma terminerà proprio nel 624 perché Eraclio sarà costretto a tornare a Costantinopoli a causa della minaccia degli avari avendo però dimostrato che i Sasaridi si potevano battere la seconda campagna iniziò invece proprio nella tarda estate del 624 Eraclio dopo aver ricacciato gli avari lontano da Costantinopoli avari che però erano liberi di scorrazzare nel resto dei Balcani ne parleremo dopo tornò a marciare verso Oriente questa volta puntando verso l'Armenia inizialmente Cosroe cercò di distrarlo mandando un esercito verso l'Anatolia sperando che Eraclio tornasse indietro ma Eraclio continuò a puntare verso l'Armenia liberò una parte di questo che un tempo era territorio romano o comunque alleato dei romani piombò verso Tigrano Certa che era la capitale della parte di Armenia gestita controllata dai Sasanidi e qui iniziò a curvare un po' facendo lo stesso movimento che era stato fatto da Maurizio dirigendosi verso la città di Ninive dove sconfisse un primo esercito Sasanide qui tornerà di qui a qualche anno per una battaglia decisamente più importante dopodiché per rimanere una minaccia per l'impero Sasanide e decise di andare a svernare in Iberia che ovviamente non è l'Iberia non è la Spagna ma sono territori che attualmente fanno parte dell'Azerbaijan così ci possiamo capire ogni tanto chiamata anche Iberia Caspica o Iberia Caucasica ne abbiamo parlato nelle serie dedicate all'Azerbaijan alla Georgia all'Armenia andatevi a rivedere quelle puntate se volete curiosare ad ogni modo una volta arrivato qui si preparò a rimanervi anche perché voleva cercare l'appoggio da parte delle popolazioni qui presenti per rafforzare il suo esercito che in questa fase ripeto contava all'incirca 25.000 uomini Cosroe dopo aver rifiutato l'ennesima proposta di pace decise di utilizzare però il grosso delle sue truppe per andare a stannarlo divise l'esercito in tre parti provenienti ovviamente da tre punti diversi e cercò di chiudere ogni possibilità di fuga a Cosroe gli eserciti avevano ovviamente la necessità di riunirsi per poter avere la superiorità numerica e quello che Eraclio ovviamente chiedo scusa non Cosroe cerco di fare fu di impedire che questi eserciti si potessero riunire quasi facendo qualcosa che sarebbe piaciuto molto a Napoleone ad ogni modo il tentativo riuscì solo in parte due dei tre eserciti riuscirono ad unirsi il terzo si stava avvicinando quando Eraclio ancora una volta mise in campo il suo genio convinse i due generali che già erano insieme che il terzo fosse in arrivo pare mandando dei disertori i Sasanidi portando dei finti dei finti ordini finse un attacco verso di loro e poi iniziò a ritirarsi nella sua ritirata ovviamente si fece inseguire anche perché gli altri due generali erano convinti che presto avrebbero avuto un terzo esercito di rinforzo ed erano convinti di poterlo facilmente annientare ma quando i Sasanidi giunsero nei presidi romani questi che gli avevano ovviamente preparato una trappola piombarono loro addosso annientarono questi primi due eserciti andarono poi a colpire anche il terzo esercito e rimasero così padroni della zona del Caucaso negli anni successivi con molto meno appoggio molto meno attacchi da parte dei Sasanidi non solo liberarono buona parte dell'Armenia ma si spinsero nuovamente verso la Mesopotamia romana liberando alcune delle città che erano state occupate dai Sasanidi e continuando a costituire una forte minaccia almeno fino al 626 d.C. Per i Sasanidi l'armata di Eraclio era diventata un'armata fantasma si muoveva molto più velocemente di loro non sapevano in nessun modo come fermarla non sapevano come sbarragli la strada non sapevano come impedirgli di liberare una fortezza romana dopo l'altra ad un certo punto uno dei migliori generali a disposizione di Cosroe cioè Charvaraz cercò di mandare una parte delle proprie truppe per bloccare sul Tigri laddove Eraclio stava per attraversare le armate romane fece distruggere un ponte fece controllare l'unico guado nella zona ma a quanto pare Eraclio riuscì anche in questo caso a cavarsela forzando personalmente insieme a una parte delle sue truppe il passaggio pare che lui stesso avesse battuto uno dei più forti guerrieri a disposizione dei Sasani di un vero e proprio gigante forzando il passaggio e permettendosi così di continuare a muoversi insomma sembrava essere completamente inarrestabile ora è vero che tutto questo ci giunge da fonti romane ma è assolutamente vero che tra 624 e 626 la situazione in oriente iniziò a cambiare nel 626 Cosroi decise quindi di cambiare completamente strategia se non poteva agganciare Eraclio poteva attaccarlo in un luogo che Eraclio non avrebbe potuto far altro che difendere cioè Costantinopoli per poter attaccare Costantinopoli mise in piedi l'esercito più grande che i Sasani di avessero avuto fino a quel momento lo affidò proprio a Sciarvarazze si parla di quasi 50.000 uomini e strinse un'alleanza ufficiale anche con gli avari inoltre mandò la flotta preparata a Rodi ad attaccare Costantinopoli e la città venne attaccata da tre direzioni Eraclio però a differenza di quello che sarebbe potuto aspettare Cosroe mandò solo 12.000 dei suoi uomini a difendere la città lasciando che fossero le mure e i cittadini a fare il resto e con il resto del suo esercito continuò a colpire le retrovie Sasanidi in realtà la vera arma difensiva dei romani sarà la flotta flotta che annienterà senza grossi problemi quella Sasanide e che impedirà ai due eserciti gli avari in Europa e i Sasanidi in Asia di unirsi non permettendo i Sasanidi che erano quelli più abili negli assedi di passare dal lato europeo e di aiutare in questo modo gli avari l'assedio sarà però durissimo la popolazione di Costantinopoli si mobiliterà per difendere non abbiamo ben chiaro quali siano stati gli scontri abbiamo tutta una serie di racconti più di ambito religioso ad esempio quello che ci racconta che il patriarca attraversasse le mura di Costantinopoli sollevando con sé un'immagine della Madonna di Maria la quale iniziò ad essere considerata la protettrice della città e veniva invocata anche dai soldati stessi con dei canti come una loro guida l'assedio continuò per alcune settimane Eraclio però nel mentre aveva fatto quella che era stata la sua strategia si era innanzitutto spostato nel Caucaso e qui si era incontrato con il canne dei Gokturk cioè di quell'impero turco che si estendeva a nord del Caspio e poi verso l'oriente Sasanide con il quale aveva stretto un'alleanza e con il quale aveva progettato di attaccare i Sasanidi da due direzioni dopodiché era sì tornato verso Costantinopoli ma non per togliere l'assedio ma per attaccare le retrovie dei Sasanidi aveva attaccato alcuni eserciti che si trovavano alle spalle e li aveva sconfitti quando gli avari avevano saputo di quello che stava accadendo in Asia e si erano accorti che l'assedio stava andando troppo per le lunghe avevano capito che la battaglia era persa si erano allontanati dalla città e così i Sasanidi erano stati a loro volta costretti a ritirarsi quando Costroe aveva saputo che il suo generale Charvaraz si era ritirato pare che gli avesse scritto una lettera lo accusava di tradimento e gli ordinava di morire gli ordinava di farsi uccidere dai suoi generali Charvaraz fu però molto intelligente anche questo ci viene raccontato dalle fonti romane quindi prendetelo un po' con le pinze pare che prese la lettera aggiunse ai nomi di coloro che avrebbero dovuto essere giustiziati altri 400 ufficiali e la presentò all'esercito dicendo che appunto Costroe aveva deciso per la loro morte inutile dire che i suoi ufficiali si guardarono bene da portare a termine questo disegno di grande massacro e si unirono a Charvaraz che da questo momento si allontanò da Costroe tornò in Siria e in Egitto che lui stesso aveva conquistato e che in quel momento governava e rimase in attesa di quello che sarebbe successo nel 627 il piano di Eraclio e del cane dei Gokturk scattò Eraclio iniziò ad attaccare le posizioni Sasanidi prima nel Caucaso le ultime rimaste e poi scendendo verso la Mesopotamia i Gokturk iniziarono invece ad attaccare in Oriente prendendo l'impero Sasanide in una morsa da cui Costroe non sapeva più come liberarsi a Ninive le forze di Eraclio riuscirono a sconfiggere l'ultimo grande esercito che in Mesopotamia Cosroe aveva a disposizione questa battaglia che sarà uno dei capolavori di Eraclio ancora una volta venne vinta grazie ad un inganno o meglio grazie a una tattica che tante popolazioni già utilizzavano nella zona e che utilizzeranno poi con grande intelligenza gli avari cioè mandando avanti le proprie forze di cavalleria simulando un attacco simulando poi una fuga in modo da farsi inseguire dalle forze Sasanidi scompaginate per poi attaccare nuovamente per annientarle è una tattica che quando racconteremo la storia degli arabi vedremo veramente utilizzato tantissimo anche contro gli stessi romani gli stessi bizantini ad ogni modo con la sconfitta di Ninive la situazione di Cosroe si era ormai fatta disperata Eraclio tornò a proporre una pace Cosroe la rifiutò ancora una volta forse ormai preda della totale follia ma non visse ancora a lungo perché il figlio Cavad futuro Cavad secondo decise di organizzare una congiura e di uccidere il padre il nuovo sovrano Cavad una volta salito al potere decise che la guerra era finita iniziò a parlamentare con Eracchio gli propose una pace e gli propose che se lo avesse appoggiato nel mantenimento del trono gli avrebbe riconsegnato tutti i territori occupati dai Sasami gli avrebbe firmato una pace con il ritorno allo status quo precedente quello sancito ai tempi di Maurizio inutile dire che Eracchio accettò ma c'era un grosso problema cioè che in realtà Cavad non aveva l'effettivo controllo dei territori occupati dai Sasanidi perché come abbiamo detto questi erano nelle mani del generale Sharvaraz il quale si guardava bene da restituirli anzi Sharvaraz presa a sua volta contatto con Eracchio proponendogli la restituzione dell'Egitto e della Siria in cambio di alcuni territori in Armenia e Mesopotamia e soprattutto in cambio del passaggio libero per il suo esercito verso i territori dei Sasanidi dove Sharvaraz voleva raggiungere Cavad ucciderlo e diventare a sua volta imperatore Eracchio accettò dopo tutto poteva riottenere così tanti territori Sharvaraz andò in oriente sconfisse Cavad divenne il nuovo sovrano dei Sasanidi ma venne a sua volta ucciso in un'altra congiura Eracchio approfittò di questa congiura per riprendersi anche i territori che aveva restituito a Sharvaraz in questo modo nel giro di pochi mesi riuscendo a riconquistare tutti i territori che i Sasanidi gli avevano strappato e potendo tornare a Costantinopoli con le reliquie che gli erano state riconsegnate da Adactesifonte e soprattutto avendo dimostrato di aver ripristinato i confini orientali dell'impero il ritorno a Costantinopoli fu un ritorno da trionfatore l'impero romano ce l'aveva fatta aveva finalmente sconfitto il suo grande nemico i Sasanidi erano in ginocchio non avevano più la forza per riprendersi ormai erano instabili e l'impero aveva riconquistato tutte le fortezze da cui poteva controllarli e l'imperatore Eracchio entrò accolto come un grande conquistatore fece un trionfo pare su un carro trainato addirittura da elefanti iniziò a essere salutato come il nuovo Costantino il rifondatore dell'impero portò con sé le reliquie che aveva recuperato e poi le fece riportare a Gerusalemme dimostrando tutta la sua forza anche davanti a Dio in realtà le cose non erano forse così buone perché non solo la situazione come potete immaginare demografica ed economica era pessima l'esercito era a pezzi l'impero non ce la faceva più esattamente come non ce la facevano più i Sasanidi ma in tutti questi anni c'erano stati anche altri fronti su cui l'impero si era mosso che adesso proveremo a trattare per farvi capire come in realtà l'impero in occidente avesse pagato tutti questi anni di guerra in oriente dovendo retrocedere dalle sue posizioni innanzitutto nei Balcani nei Balcani dove come abbiamo detto avari e soprattutto slavi erano continuati a calare senza più la protezione offerta dalle truppe che qui erano state stanziate da Maurizio e avevano continuato a scendere ad insediarsi in realtà gli avari scendevano e raziavano erano gli slavi che arrivavano e si insediavano in questo periodo lo faranno in maniera assolutamente netta andando a stabilirsi in alcune zone che un giorno diventeranno la Croazia e la Serbia l'impero perderà città importantissime Singidunum che proprio in questo periodo inizierà ad essere chiamata Belgrado cioè la città bianca con il nome proveniente dal termine slavo perderanno l'antica città di Salona che diventerà anche questa una città slava città che era stata imperiale se ci pensate ai tempi di Diocreziano e perderanno tutta una serie di centri importantissimi con gli slavi che una volta giunti lo abbiamo già raccontato si insedieranno e spingeranno via le popolazioni romane gli slavi seguiranno due vie principali nei Balcani la prima che appunto li portava verso quella che diventerà la Jugoslavia e l'altro che invece li portava verso la Bulgaria pur continuando a spingere e razziare anche in direzione della Grecia gli slavi in questa fase inizieranno progressivamente ad affrancarsi dagli avari e inizieranno a creare anche dei veri e propri regni anche se non ancora nella zona dei Balcani ma più a nord e tra questi regni ve lo cito come curiosità c'era il cosiddetto Regno di Samo un regno che si estendeva grossomodo su una parte dell'attuale Ungheria dell'Austria e poi andava a nord verso la Bohemia che prendeva il nome da Samo che era in realtà un mercante di origine franca pensate i corsi e ricorsi della storia il quale aveva inizialmente venduto armi agli slavi e che poi ne era diventato il sovrano aveva sconfitto i franchi aveva sconfitto gli avari e aveva creato un piccolo regno indipendente che in realtà non gli sopravvisse molto era però un segno del fatto che gli slavi stessero iniziando a creare delle loro strutture non sappiamo moltissimo di questa zona di questo periodo ve l'ho già detto nelle scorse puntate perché gli autori romani non ne parlano o se lo fanno cercano di non dire che l'impero stesse perdendo i Balcani sostanzialmente facendo credere che appunto i Balcani vedessero questi potentati slavi in realtà sudditi dell'impero sappiamo che non è così ma gli slavi non scrivevano nulla e quindi ovviamente non sappiamo il loro punto di vista su cosa stesse capitando grossi problemi c'erano anche in Italia in Italia nel 615 quindi poco dopo la salita al trono di Eraclio era stato ucciso l'esarca d'Italia cioè Giovanni ad ucciderlo era stata in realtà una congiura interna causata dalla mancanza di denaro non erano arrivate le paghe per i soldati questi si erano ribellati in più Giovanni pare che avesse alzato a limiti assolutamente insostenibili le tasse e il risultato era stato che sia Ravenna che Napoli si erano ribellate il nuovo esarca Eleuterio quando arrivò a Ravenna fece innanzitutto la cosa più intelligente cioè pagò le tasse ai soldati e con quei soldati riuscì a riprendere controllo di Ravenna e di Napoli nel 619 però decise di fare un passo più lungo della gamba siamo nel momento più oscuro dell'impero che nel 620 ricordatevi firmerà quella pace quella tregua vergognosa con i Sasanidi nel 619 Eleuterio quindi deciderà di staccare l'Italia dall'impero di farsi nominare nuovo imperatore d'Occidente e di andare verso Roma per farsi riconoscere come tale dal Papa non ci arriverà mai perché una parte delle truppe fedele ad Eraclio lo ucciderà taglierà la testa e la spedirà a Costantinopoli forse l'unica nota positiva in questo 619 620 coloro che lo sostituiranno si troveranno di fronte a due grosse problematiche il primo era il legame con il Papa che continuerà ad essere molto instabile il Papa si schiererà sempre meno con Costantinopoli sempre più grandi inizieranno ad essere le frizioni con Costantinopoli che accusava il Papa di essere troppo autonomo e di governare una parte dell'impero il famoso ducato romano sostituendosi invece ai governanti romani i governanti bizantini dall'altra parte il Papato invece accuserà Eraclio dal punto di vista religioso poi vedremo più avanti il perché quello che è certo è che i rapporti come vi dicevo saranno pessimi nel 640 siamo arrivati siamo andati un po' avanti siamo andati verso la fine del regno di Eraclio addirittura un piccolo esercito romano raggiungerà Roma e prenderà una parte del tesoro del Papa per pagarsi le proprie paga capite che i rapporti non dovevano essere esattamente buoni l'altro grosso problema ovviamente erano i Longobardi che i romani continuarono a cercare di aggredire vi furono varie spedizioni per cercare di riconquistare l'Italia ma nessuna di queste spedizioni andò bene anzi i romani alla fine del regno di Eraclio avevano perso altro territorio avevano visto limitato ulteriormente i loro territori in Romagna avevano perso l'attuale regione della Liguria che grazie alla sua vicinanza al mare era sopravvissuta fino a quel momento e avevano perso praticamente tutti gli ultimi insediamenti nell'entroterra con i cittadini romani costretti ad abbandonare le loro case spostarsi verso la costa le ultime ancora controllate appunto dall'impero fondando anche alcune città e tra queste la città di Eraclea che prende il nome proprio da Eraclio insomma in Italia il dominio romano sembrava avvicinarsi sempre più alla sua conclusione mi anticipo ma lo sapete tutti che in realtà non è così a sud resisterà ancora per parecchio tempo ma ne parleremo con i prossimi imperatori dove invece il dominio romano andò a terminare fu in Spagna nel 600 intorno ai primi dieci anni del governo di Eraclio quella l'ultimo scampolo di provincia romana in Spagna infatti venne progressivamente annesso il sovrano Sisibuto sovrano dei Visigoti durante che regnò fino al 621 dopo Cristo riconquistò buona parte delle città ancora romane alcune vennero quasi distrutte come Cartagena altre invece gli aprirono le porte come Malaga ma alla fine del suo regno praticamente romano non rimaneva che una piccolissima striscia di controllo che i suoi successori entro 624 strapparono completamente al controllo di Costantinopoli quel pezzo di territorio in effetti i romani non avevano nessuna possibilità di difenderlo l'esarca d'Africa da cui dipendevano non riceveva più truppe da Costantinopoli vorrei ben vedere data la situazione aveva ben altro a cui pensare contro i Mauri e praticamente non difese quelle città che anzi si riconsegnarono i Visigoti che diciamolo ancora una volta se ci avevano messo così tanto tempo a conquistare queste città era più che altro perché maggiormente impegnati al nord nelle Asturie e nei paesi baschi e facevano sostanzialmente queste conquiste un po' nel tempo libero tra virgolette l'unica parte di Spagna che ancora rimaneva nelle mani dei romani erano le isole Baleari che continueranno a rimanerlo fin quando non vi arriveranno gli arabi Baleari che però come progressivamente inizierà a essere anche per Sardegna e la Corsica saranno così isolate a tutti gli effetti autogovernarsi rimandando solo secondariamente verso Costantinopoli abbiamo parlato velocemente di queste aree ve l'ho detto cerchiamo di concentrarci concentrarci maggiormente sull'impero maggiormente su Costantinopoli ma è ovvio che quello che Eraclio dovette subire nella prima fase del suo impero fu una decisiva ritirata Eraclio imperatore di costumi orientali di lingua greca aveva puntato tutto sull'Oriente qualcuno ha interpretato questo dicendo che Eraclio è il primo imperatore greco tra virgolette e in effetti per alcuni aspetti questo è vero è vero perché sotto Eraclio il greco diventa la lingua ufficiale dell'impero gli atti vengono scritti in greco ma abbiamo visto che già dai tempi di Giustiniano questo avveniva o meglio gli atti erano scritti in latino ma poi venivano trascritti anche in greco perché progressivamente la popolazione aveva iniziato a utilizzare questa lingua perché perché l'impero aveva spostato il suo centro verso oriente in oriente si continuava a parlare greco dopo tutto era l'oriente ellenistico e quindi ad un certo punto anche l'impero aveva dovuto piegarsi a quella che era la lingua della maggior parte della sua popolazione e poi iniziavano i costumi sempre più a spostarsi in quella direzione dopo aver sconfitto l'impero Sosanide il Eraclio iniziò a far utilizzare tra i suoi tanti titoli quello di Basileus che letteralmente vuol dire re sovrano Basileus dei romani quindi comunque sovrano dei romani una carica che se vogliamo anche dal punto di vista meramente di terminologia si differenzia rispetto a quella di Imperator che è una carica propria del mondo latino un nome greco un nome più vicino a quello di re se vogliamo quindi qualcosa che i romani avrebbero assolutamente odiato i romani non avrebbero mai voluto un nuovo sovrano e che quindi in qualche modo stava mostrando un forte cambiamento ma era questo l'unico cambiamento che Eraclio stava dando al mondo dell'impero ovviamente no la riforma per cui Eraclio è maggiormente famoso probabilmente non l'ha fatta lui e questa è già una cosa divertente in effetti Eraclio è conosciuto come colui che creò i temata che è un termine plurale singolare tema che indicava una specie di divisione amministrativa all'interno dell'impero romano d'oriente organizzata per farle in maniera molto semplice come fossero tanti piccoli esarcati ora cerco di spiegarmi teoricamente la struttura era quella che prevedeva che a capo di una singola regione ci fosse un comandante militare il quale assumeva ve lo sto spiegando in maniera abbastanza semplice assumeva un ruolo sia di amministratore che di comandante militare ma di comandante militare di chi? beh delle truppe che si trovavano in quella regione truppe le quali non ricevevano più un pagamento in denaro ma ricevevano un pagamento in terre se vogliamo sembra quasi un ritorno molto all'antico per i romani un ritorno ad un esercito creato localmente che quindi ovviamente aveva tutta una serie di necessità anche di gestione locale che da una parte sgravava le casse imperiali dalla necessità di pagare degli eserciti fissi o degli eserciti di mercenari dall'altra permetteva di arruolare possibilmente molti più truppe ovvio che questo frazionamento dell'impero aveva poi tutta una serie di effetti negativi perché ovviamente voleva dire frazionare le truppe avere meno truppe professionali e aumentare il rischio che in mancanza di questi eserciti fissi fedeli all'imperatore qualcuno potesse decidere di sollevarsi portare con sé una serie di generali e i loro temata e mirare al trono di costantinopoli come vi dicevo questa trasformazione è possibile che sia stata dovuta ad una serie di fattori avvenuti durante il regno di Araclio o in quelli successivi poi spiegheremo perché probabilmente non l'ha fatta lui una trasformazione dovuta a più o meno le stesse cose che avevano portato a trasformare sempre più il greco nella lingua nazionale innanzitutto la perdita dei Balcani che quindi aveva fatto perdere all'impero tutta una grossa base su cui poteva basare il suo potere dal punto di vista militare oltre alla perdita dei territori che parlavano principalmente latino dall'altra parte il fatto che di fronte alle avanzate durante il regno di Araclio una parte della popolazione si fosse venuta a ridistribuire in Anatolia che quindi si sia trovata a dover ricevere delle terre dove potersi andare a stabilire e in cambio abbia offerto proprio il suo lavoro come soldati come vi dicevo però è una trasformazione che non è chiaro se sia avvenuta realmente durante il regno di Eraclio II alcuni storici devo dire in effetti la minoranza anticipano questa trasformazione agli anni precedenti a qualche imperatore precedente qualcuno va indietro fino a Maurizio qualcuno addirittura arriva a Giustiniano anche se la cosa è molto dibattuta la maggior parte invece si sposta più avanti va all'imperatore Costanzo II o a qualche imperatore successivo in realtà la maggioranza degli storici ritengono che non ci sia stato un imperatore che improvvisamente ha detto ok d'ora in avanti si organizzano in temata e l'impero si gestisce in questo modo ma sia stata una progressiva trasformazione causata proprio da spostamenti demografici da una questione di impoverimento dell'impero e da una trasformazione del modo in cui l'esercito veniva gestito come sempre abbiamo visto nella storia raramente le cose accadono dall'oggi al domani ma sono sempre delle trasformazioni progressive c'era anche un altro aspetto dell'amministrazione di eraclio interessante da spiegare che è quello religioso innanzitutto durante il regno di eraclio si diffonde tantissimo il culto mariano il culto della madonna e tradizionalmente questa cosa viene legata all'assedio di costantinopoli che vi ho raccontato prima in effetti la madonna inizia a diventare veramente una figura importante all'interno delle preghiere ma anche delle invocazioni che venivano fatte dagli eserciti e questo lo vedremo crescere sempre di più allo stesso modo in questo periodo forse come spesso capita nei momenti di grande instabilità iniziano a diventare sempre più importanti le figure dei santi che non sono solo più personaggi importanti a cui rifarsi al loro pensiero ma che diventano sempre più dei veri propri protettori anche qui però ovviamente stiamo parlando di un processo che necessiterà di secoli per andare avanti eraclio si trovò ad affrontare come sempre il solito problema che gli imperatori d'oriente avevano dovuto affrontare negli ultimi secolo e mezzo cioè il problema dei monofisiti ora posto che eraclio questo problema se lo trovò ancora più forte perché ovviamente i monofisiti in oriente che erano stati governati dai sasanidi che venivano da anni di guerra di instabilità avevano ancora di più il dente avvelenato con il governo centrale eraclio cercò di risolvere la cosa nella maniera migliore come altri imperatori avevano fatto cercò di trovare una qualche soluzione che potesse mettere d'accordo un po' tutti i calcedoniani quindi ortodossi e monofisiti la soluzione venne trovata dicendo che attenzione perché è interessante partiamo dal presupposto io vi ricordo sempre che i monofisiti credevano che Cristo avesse una sola natura quella umana e quella divina che però erano fuse insieme con quella divina che prevaleva mentre gli ortodossi i duo fisiti credevano che Cristo avesse due nature una umana e una divina separate poi c'erano tutte le altre variazioni ma queste le lasciamo da parte Erachio giunse a formulare insieme al patriarca di Costantinopoli una teoria secondo la quale le nature di Cristo sono due ma l'energia o la volontà secondo una seconda versione è una sola quindi sostanzialmente anche se le nature sono due agiscono talmente di concerto che è come fossero una sola ve l'ho spiegato in maniera molto semplice ma poteva essere una soluzione che teoricamente risolveva un po' la questione in realtà venne accettata solo più o meno venne accettata più o meno in occidente dove il papa a seconda di chi era l'ha presa per buona un po' meno e questo come vi dicevo non migliorò molto i rapporti non dimentichiamoci che in occidente c'era poi lo scisma tricapitolino quindi ovviamente questa trasformazione venne vista dagli scismatici come l'ennesima dimostrazione che a Costantinopoli la religione seguita non fosse più quella corretta tra i monofisiti invece venne accettata dalle componenti più moderate meno da quelle più estremiste ma diciamo che una quadra la riuscì a trovare a questo si unì un'attenta politica proprio in Oriente l'Oriente riconquistato vide l'arrivo di patriarchi delle fazioni più moderate monofisiti ma moderati di modo da poter in qualche modo agire di concerto insomma una qualche forma di quadra si era cercato di trovarla e chissà forse tutto questo avrebbe potuto portare ad una rinascita dell'impero non fosse che anche qua come credo molti di voi sappiano l'ultima parte del regno di Eraclio vide nuovamente l'impero invaso questa volta non dai Sasanidi ma dagli arabi questa parte la racconteremo un pochettino nel dettaglio tra due settimane quando inizieremo a raccontare proprio la storia delle espansioni arabe quindi adesso ve la sintetizzo solo per quanto riguarda proprio l'imperatore ma ripeto l'approfondiremo a partire di tra due settimane anche perché c'è veramente tanto da raccontare cosa che hanno letteralmente cambiato la storia del mondo nel 633 gli arabi iniziarono a fare le prime puntate al di fuori dell'Arabia la tradizione vuole che precedentemente Maometto avesse scritto i governanti della terra chiedendo loro di convertirsi all'Islam e che ovviamente non fosse stato ascoltato ma vorrebbe vedere i romani conoscevano gli arabi ma sicuramente non li temevano quello che però gli arabi trovarono una volta usciti dalla loro penisola furono due imperi che a furia di combattersi erano ormai giunti allo sfinimento sia quello stasanide che quello romano erano due imperi che non avevano più risorse per combattere un nuovo nemico e di tutto questo gli arabi approfittarono lo fecero utilizzando nuove tecniche di combattimento o meglio utilizzando al meglio tecniche di combattimento che aveva usato anche Eraclio come quello della finta ritirata e lo fecero soprattutto guidati da grandi comandanti come Khalid ibn al-Walid la spada di Allah di lui parleremo molto quando racconteremo proprio dell'avanzata degli arabi nel 633 gli arabi entravano per la prima volta nell'impero romano sconfissero un primo esercito guidato dal Patrizio Sergio Eraclio mandò contro di loro un altro esercito che venne nuovamente sconfitto e nel 636 dopo Cristo un esercito questa volta molto numeroso romano venne sconfitto proprio da Khalid ibn al-Walid nella battaglia del fiume Yarmouk una battaglia che vide i appunto Khalid fare una ritirata di chilometri e chilometri per attirare i romani proprio nel punto dove voleva combattere e dopo quattro giorni riuscire a sconfiggerli quella battaglia fu disastrosa i romani persero praticamente il controllo del Medio Oriente gli arabi dilagarono raggiunsero Damasco raggiunsero Gerusalemme che venne occupata nel 638 dopo Cristo con la reliquia della vera croce che questa volta era stata portata in fretta e furia a Costantinopoli per proteggerla poi iniziarono a spostarsi verso l'impero Sasanide lo stavano in effetti già facendo salire verso nord e spinsero verso l'Egitto conquistando una città dopo l'altra e come vedremo in parte senza trovare tutta questa opposizione perché monofisiti ed ebrei anche loro erano stati peraltro perseguitati da Eraclio costretti alla conversione molto spesso aprivano loro le porte preferendo gli arabi che erano visti da alcuni addirittura come un'eresia del cristianesimo ma ripeto di questo ne parleremo al dominio di Eraclio in tutto questo Eraclio nonostante qualcuno gli proponesse di cercare una qualche forma di accordo con questi arabi si rifiutò assolutamente di fare qualunque trattativa i suoi ultimi anni furono anni complicati dopo la sconfitta degli Oliarmouk abbandonò Costantinopoli e si ritirò in Anatolia era ormai preda di malattie era invecchiato aveva problematiche cardiologiche aveva sviluppato pensate un'assurda fobia del mare tanto che quando ad un certo punto fu costretto a rientrare a Costantinopoli si rifiutò di farlo in barche e fu necessario costruirgli un ponte di barche per attraversare il Bosforo che venne poi coperto di sabbie e foglie affinché non si accorgesse di stare camminando proprio sulle acque l'ultimo periodo fu complicato anche perché ci furono delle sommosse a Costantinopoli ci fu un tentativo di colpo di stato fatto da un suo nipote Teodoro che venne però catturato gli venne amputato il naso alla moda orientale di questo parleremo nella prossima puntata così capirete il perché e in generale gli ultimi anni saranno veramente molto complessi non vedrà però la caduta totale del suo impero orientale di quello che era riuscito a strappare ai Sasani non lo vedrà perché morirà nel febbraio del 641 poco prima che le due grandi città orientali ancora in mani romane cioè Babilonia da una parte e Alessandria d'Egitto dall'altra cadessero nelle mani degli arabi alla sua morte lascerà un trono vacillante un trono che molti pensavano sarebbe potuto andare al suo figlio primogenito Eracrio Costantino che peraltro aveva già associato al trono nel suo ultimo periodo e che prendeva il nome di Costantino III ma che in realtà verrà assegnato anche a un altro figlio questa volta di secondo letto chiamato Eracleona il quale salirà al trono come Eraclio II come vedremo sarà una scelta non esattamente fortunata i rapporti tra i due non saranno buoni e la vita di entrambi sarà decisamente breve ma lo racconteremo meglio nella prossima puntata si chiudeva così un regno che come vi ho detto nell'introduzione aveva conosciuto uno dei momenti più bassi era iniziato in uno dei momenti più bassi dell'impero romano era tornato ad un fulgore incredibile con l'impero che in oriente si era spinto fino ai suoi confini più orientali e poi era nuovamente piombato nel buio era stato un imperatore che è coraggioso questo bisogno d'agliene atto sicuramente un ottimo comandante militare che aveva forse imparato dopo le sue prime campagne ma si era poi dimostrato veramente ottimo un imperatore che forse fosse stato meno abile sarebbe potuto essere stato l'ultimo imperatore romano e invece l'impero sopravviverà lo farà in maniera monca perché come tutti voi sapete gli arabi non restituiranno mai i territori conquistati lo farà in maniera monca ma continuerà a sopravvivere ed Eraclio continuerà ad essere visto con questa duplice valenza da una parte alcuni storici soprattutto nel diciottesimo secolo lo interpreteranno come l'imperatore che si era addormentato all'inizio e si era addormentato alla fine quasi come avesse veramente governato solo per il suo periodo centrale per molto tempo invece sarà considerato l'imperatore che aveva in qualche modo rifondato lo stesso impero tanto che al momento in cui venne seppellito fu seppellito vicino a Costantino e il nome di Eraclio per tanto tempo a Costantinopoli sarà evocato come quello di un grande guerriero a voi ovviamente la scelta di decidere come stessero le cose quel che è certo è che l'impero stava cambiando e gli anni che stavano per arrivare sarebbero stati molto molto complicati la prossima settimana racconteremo dei suoi successori anche perché il loro regno è veramente molto breve ed è necessario per agganciarci alle ultime cose poi inizieremo a parlare degli arabi perché d'orina avanti se vogliamo parlare di impero romano è necessario parlare degli arabi e capire innanzitutto chi fossero come fossero diventati una forza così forte e come avessero attaccato l'impero romano strappandogli tutti quei territori è necessario perché da questo momento in poi musulmani e cristiani arabi prima poi turchi e romani dall'altra diventeranno una coppia in lotta per secoli 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 fino a quando l'impero romano non terminerà io per ora mi fermo qua vi ringrazio tantissimo di aver seguito questa lunga puntata ho cercato di essere un po' schematico soprattutto nelle campagne militari alla guerra di eraclio contro i sasani avremmo potuto probabilmente dedicare due o tre puntate è vero che le fonti non sono qua come quelle della guerra di giustiniano ma di cose da raccontare interessante ce ne erano ma ho preferito darvi un quadro un po' più riassuntivo per rimanere nella serie di imperatori magari in futuro racconteremo meglio alcuni aspetti di tutto questo prima di chiudere però fatemi ringraziare come sempre abbonati Patreon e chi fa donazioni sul conto Paypal perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti in particolare oggi vorrei ringraziare Madeleine Vandevelde grazie mille spero di aver pronunciato bene il nick ma grazie per il tuo supporto per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete curiosare tra qualcuna di queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao